Il ponte del 25 aprile è anche cultura, con possibilità di visitare tanti luoghi in tutta la regione. Un'iniziativa che ha fatto registrare un grande successo nei musei aperti. All'Aquila, aperte le due sedi del Museo Nazionale d'Abruzzo, con numeri importanti. La star aquilana e il mammut, visibile per aquilani e turisti dalle 10 alle 18 al Forte Spagnolo, con tanti curiosi che hanno scelto questa visita anche per rientrare nel castello cinquecentesco, ma anche la sede del Munda alle 99 cannelle ha aperto le sue porte. Con il biglietto per vedere il mammut, l'entrata al Munda era gratuita. Il Ministero per oggi ha stabilito l'ingresso gratuito per tutti i musei nazionali, gratis sino a 18 anni, prezzi simbolici per gli altri, tanti visitatori al castello provenienti da fuori città. Tante prenotazioni per le visite al castello cinquecentesco per vedere il mammut, prenotazioni che si potevano fare attraverso il sito e la gente già dalla prima ora di apertura sta affollando il castello cinquecentesco proprio per questa iniziativa che consente, tra l'altro acquistando il biglietto per l'ingresso al mammut, di poter visitare anche il Museo Munda. E poi c'è l'iniziativa ovviamente della gratuità perché sino a 18 anni non si paga. Siete aquilani? No, brisciani. Com'è stato? Bello, bello, interessante, impressionante, molto grande e molto bello comunque. Siete in città per qualche giorno per questo ponte? Come l'avete trovato? Per qualche giorno che siamo qua e sono qua a trovare la nostra figlia che vive qua e è bello. L'Aquila è bellissima. Noi siamo di Roma, però abbiamo una casa qui vicino all'Aquila. Aveva mai visto il mammut? No, veramente no, infatti abbiamo approfittato appunto di questa occasione. Veramente siamo rimasti molto contenti insomma. Nel capoluogo aperto anche il Maxi con visite guidate nel pomeriggio e possibilità di visitare l'ultima esposizione visibili invisibili, gettonati anche il Teatro Romano di Amiternum e Alba Fucens. A Celano aperto il Castello Piccolomini, aperta anche l'Abbazia di Santo Spirito del Morrone. A Chieti porte aperte per il Museo archeologico Villa Frigeri dove c'è il famoso guerriero di Capestrano. Aperto la Civitella e l'Area archeologica Antica Teate. In provincia di Pescara in primo piano l'Abbazia di San Clemente a Casauria. In centro il Museo Casanatale di D'Annunzio ed è aperta anche la Fondazione Museo Paparella Treccia. A Teramo visitabile il Museo di Campi del Necropoli Campovalano. Insomma un 25 aprile all'insegna della cultura e della tradizione, di luoghi carichi di storia e magia.